E' stato trovato morto un delfino nel primo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Pesaro. A dare la segnalazione alla guardia costiera è stato un privato cittadino che ha ritrovato una carcassa di delfino della specie Tursiope di circa 2 metri e 60 di lunghezza e 110 kg di peso spiaggiato sul litorale pesarese. Sul posto i marinai hanno effettuato gli accertamenti del caso e acquisito le caratteristiche dell'animale marino per l'inserimento nell'apposita banca dati predisposta dal Ministero. Intervenuto in seguito il veterinario dell'Asur Marche, non rilevando problemi di tipo genico-sanitari, ne ha disposto lo smaltimento in discarica secondo le procedure previste. Ricordiamo inoltre che la segnalazione di animali spiaggiati deve essere indirizzata alla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Zona anche telefonicamente al numero 1530 per attivare la catena operativa creata dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero della Salute per il recupero e lo studio sugli animali che spiaggiano sulle nostre coste.